Si è svolto a Teramo l'incontro voluto dall'amministrazione comunale con le associazioni di categoria e portatori di interesse sulla proposta per il documento di inquadramento per l'attuazione dei programmi unitari di intervento e l'avvio della nuova variante generale al PRG. L'obiettivo del confronto è stato quello di cogliere e di rafforzare alcuni contesti di trasformazione originati dalla ricostruzione post-sisma e dagli interventi programmati con il Piano Nazionale PNRR. Un'occasione questa per fare il punto anche sulla città e sul suo territorio dopo un periodo di grandi sconvolgimenti dovuti sia al terremoto e quindi viviamo il post-sisma ma anche poi a tutta una serie di avvenimenti che hanno avuto una ripercussione anche sul mercato immobiliare, sui destini della città dovuti alla crisi economica e poi anche alle novità del Green Deal europeo e poi la pandemia. Il Comune nel recente passato ha dato vita ad una variante per la retrocessione dei diritti edificatori hanno accolto le richieste dei cittadini e adesso c'era appunto l'idea da parte dell'amministrazione di prendere questi diritti edificatori senza consumare altro suolo per cercare di dare la via delle proposte di iniziativa privata ma anche pubblica per rigenerare la città in alcune parti importanti che verranno fuori dal confronto tra il Comune e i privati. Tra gli obiettivi confermati la volontà di non incrementare il consumo di suolo e di garantire il riordino e la razionalizzazione del disegno urbanistico del sistema insediativo. Così le nuove proposte dovranno garantire un riequilibrio tra le aree forti e quelle deboli del territorio comunale dal punto di vista del mercato immobiliare rafforzare lo sviluppo nelle aree più dinamiche e arginare i processi di spopolamento e di abbandono. Faremo a monitorare l'andamento che tutto ciò che porta a economia, porta a benessere alla nostra provincia per noi è ben accolta. Riqualificare i territori, le frazioni ma io insisto anche sulla centro città. Ovviamente il PNRR rappresenta un'importantissima occasione. Beh sì, sarà il volano che porta davanti tutto.